Buongiorno Corrado, siamo prontissimi, avanti, avanti tutta, sempre avanti e mi raccomando ragazzi la lunga eh, voi che siete giovani, ciao, Lucca Del Magno è pronto? Io volevo essere pronto ma per colpo tuo ho lasciato i preghiare in macchina e che non so, probabilmente inizierò la prima salita, impianterò Bertinoro, le pagelle, le pagelle, le pagelle dobbico, le pagelle dobbico signor Roberto, metti una parola buona sulla mia pagella, Roberto è pronto? È pronto lei? Io sono andato pronto, però sono nel posto sbagliato, al momento è sbagliato, al momento è sbagliato Cos'è? Mirko? Cotechino? Carica mille? Carica mille? Carica mille? Che carica mille che hai scaduto Auro! Speriamo bene! Ehi! Sei pronto? Benissimo, sto benissimo, si parte! Tutto posto! Tutto posto! Tutto posto! E te? Sei pronto? Si vede? Ci sono? Ci sono? Sono pronto anch'io, sono pronto anch'io!